Benvenuti nel mondo degli orologi Ernst Benz. Ernst Benz è un marchio americano di orologi di lusso fondato nel 2005 a New York City da Leonid Kankin. Il marchio prende il nome dallo svizzero Ernst Benz, un orologiaio di fama mondiale che ha fondato la Benz & Co. nel 1884. Gli orologi Ernst Benz sono noti per il loro stile vintage e le loro caratteristiche tecniche avanzate. Ernst Benz offre una vasta gamma di orologi da uomo e da donna, tra cui orologi automatici e a quarzo, con una selezione di funzioni come cronografi, GMT, calendari e fasi lunari. Tutti gli orologi Ernst Benz sono assemblati a mano negli Stati Uniti e utilizzano movimenti svizzeri di alta qualità. Il marchio è impegnato a creare orologi di alta qualità che uniscono l'artigianato svizzero e il design americano. Gli orologi Ernst Benz sono spesso associati alla cultura dell'aviazione, con molti dei loro modelli ispirati ai classici strumenti di bordo degli aerei. Il marchio ha anche collaborato con importanti compagnie aeree come la Delta Airlines e la JetBlue Airways per creare orologi esclusivi per i loro piloti. La qualità degli orologi Ernst Benz è evidente in ogni dettaglio, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e all'attenzione ai dettagli. Molti dei loro orologi includono parti in titanio, carbonio e altri materiali innovativi per garantire leggerezza e resistenza. Inoltre, i cinturini degli orologi Ernst Benz sono realizzati in pelle di alta qualità e dispongono di chiusure a scomparsa brevettate che garantiscono una perfetta aderenza al polso. Grazie per la visione!